Eccoci e bentornati sul mio canale, nuova video di news su Call of Duty Infinite Warfare. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. In questi giorni vi ho riportato una notizia sensazionale in merito all'arsenale armi di Call of Duty Infinite Warfare. Se ve lo siete persi andatela a vedere che lo trovate nella playlist dedicata e cioè che Call of Duty Infinite Warfare avrà un arsenale di armi più grande di qualsiasi titolo della serie di Call of Duty. Perché voglio tornare nuovamente sull'argomento? Perché un utente su Twitter ha pubblicato entrambe le pagine di quell'articolo sul quale mi ero basato per il mio video news. E proprio analizzando queste due pagine che dovrebbero arrivare dagli specifici articoli del magazine Game Informer che dovrebbe essere uno speciale di 12 pagine è apparsa un'immagine veramente molto interessante su quello che potrebbe essere il primo cecchino, il primo fucile da cecchino che troveremo nel multiplayer nella campagna di Call of Duty Infinite Warfare. A vederlo a prima vista non so voi ma mi ricorda l'RSA Interdiction di Call of Duty Black Ops 3. Quindi neanche un'arma standard del titolo ma una delle nuove armi introdotte con gli aggiornamenti del mercato nero. Analizzandola bene nel dettaglio si può vedere un'ottica molto avanzata, il bipiede per tenerlo ovviamente più stabile con un rinculo molto ridotto e soprattutto una bocca di fuoco molto grande. Non vorrei che ci fosse una specie di freno di bocca o un silenziatore nella parte davanti della canna di sparo. Come seconda cosa che mi salta all'occhio di quest'arma è che non mi sembra così futuristica, soprattutto dopo aver visto il gameplay della campagna rilasciato durante le 3 2016 da Sony ed Activision. Sembra quasi un fucile dei giorni nostri se non qualche anno più avanti, non mi sembra proprio così futuristico come un fucile da cecchino spaziale, tra virgolette se proprio così la vogliamo dire. Quello che è certo è che se è apparso in questo famoso articolo che dovrebbe essere appunto di Game Informer sicuramente c'è la prima conferma che questo potrebbe essere il primo fucile da cecchino che potremo utilizzare ovviamente sia nella campagna che nel multiplayer del nuovo titolo sviluppato dall'Infinity World che vi ricordo arriverà il prossimo 4 di novembre. Del multiplayer purtroppo sappiamo ben poco anche perché anch'esso sarà svelato molto tardi durante l'evento del Code XP 2016 che si svolgerà dal 2 al 4 di settembre. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e cosa vi viene in mente a vedere questo fucile da cecchino e rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale!